I tifosi del Catania colgono il nuovo allenatore Luca Tabbiani. Ecco le sensazioni in aeroporto al suo arrivo, l'idea di calcio, l'entusiasmo in vista dell'inizio di una nuova stagione, l'importanza dell'alchimia giusta tra squadra, tifosi e società. Si percepisce appena si arriva la passione che hanno i catanesi nei confronti del Catania, quindi è un grande orgoglio essere qua. Ne ho avuto più colloqui con il direttore perché in questo periodo parlavamo appunto di idee magari da poter affrontare oppure discutevamo sui ragazzi che facevano parte già l'anno scorso della Rosa e quindi domani incontrerò il vicepresidente dopo averlo incontrato tante volte prima di trovare l'accordo. Mi piace una squadra che va a cercare di prendere palla il prima possibile, a cercare comunque di avere un po' di dominio dentro la partita, di cercare di trovare soluzioni per essere offensivi ma soprattutto propositivi nella voglia di andare a correre in avanti sia con che senza la palla. Questo è quello che cercheremo di fare con i ragazzi e non vedo appunto l'ora di iniziare per poter portare queste idee. Poi penso che l'alchimia tra noi, i staff, i ragazzi e la società sarà la cosa che potrà fare la differenza.